Ciao sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere come disabilitare Gutenberg su Wordpress. Se non hai ancora trovato come disabilitare Gutenberg è proprio non ne puoi fare a meno di questo sistema a blocchi per costruire Wordpress. Ormai tra l'altro al momento in cui sto registrando in questo video, Gutenberg è diventato il nuovo editor ufficiale di Wordpress da anche un bel po' di tempo. Quindi se proprio però non puoi farne a meno, se non riesci proprio a fare in modo che questo editor faccia al caso tu e vuoi tornare a quello che è l'editor classico, allora questo è appunto il video che fa per te. Ho deciso infatti di fare questo breve video dove fondamentalmente ti spiego cosa devi fare, sono pochi i semplici step per appunto andare a disabilitare quello che è Gutenberg e ripristinare quindi il vecchio editor classico. Allora per fare questo ti è sufficiente andare sulla repository ufficiale di Wordpress andare a scaricare il plugin appunto Classic Editor, è ancora questo plugin supportato per l'intero anno 2022 e finché sarà necessario quindi è anche un plugin ufficiale della repository quindi è un plugin appunto sviluppato proprio dal team di Wordpress che ci consente di tornare a quello che è l'editor ufficiale. Troverai comunque il link qua sotto in descrizione e avrai visto passare anche l'immaginetta magari di quello che è appunto il plugin. Quello che devi fare fondamentalmente è molto semplicemente installare e attivare questo plugin, ha anche qualche altro settaggio se vuoi per esempio abilitare o disabilitare l'editor classico per tutti gli utenti o solo per alcune tipologie di utente ma è molto molto semplice nell'utilizzo e non ha appunto molte molte difficoltà nell'utilizzarsi. Se hai dubbi o domande ti invito a scrivermelo qua sotto in modo tale che io possa darti una mano. Se ti piacerebbe invece approfondire qualche argomento che è stato trattato in questo o in altri video sempre del mio canale scrivimelo anche questo e se questo video comunque ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao! Grazie! 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 Grazie!